Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come rimuovere l'eco dalle cuffie ovviamente grazie a un commento che mi ha fatto ricordare di fare una guida perché in passato avevo questo problema e sono riuscito a rimuovere l'eco dalle cuffie perché ogni tanto per chi collega un microfono oppure le cuffie al pc succede che arriva una spunta che dice ascolta il dispositivo questa cosa succede sulla riproduzione del microfono quindi in questo caso se tu vai su impostazioni audio vai su altre impostazioni audio questo eco succede sempre per colpa del microfono tipo se vai su registrazione questo è il microfono con cui sto parlando ci cliccate sopra e andate su ascolto in passato avevo questo problema dicendo ma perché usciva questo eco dalle cuffie perché si sentiva doppia la mia voce quindi perché era messa la spunta qua sopra faccio applica e ovviamente se provo a fare una prova di dispositivo tipo faccio altoparlanti quindi facendo una prova si sente doppia la mia voce ok ok questa è quindi in questo caso si sente la voce doppia per colpa di questa riproduzione del microfono ok quindi se togliete questa spunta da qua ascolto il dispositivo fate ok non si sente più l'eco nelle cuffie ok quindi non sentite la vostra voce quindi se questo video ti è stato utilissimo su come rimuovere l'eco dalle cuffie per altri problemi commenta mi raccomando cercate di capire qual è il vostro microfono basta che parlate all'interno quindi parlate al microfono e se vedete una tacchetta che si alza quello è il vostro microfono ci cliccate sopra andate su ascolto e togliete la spunta ascolto e dispositivo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao